Pochi secondi prima del decollo mentre si sistemano i bagagli a bordo. Ecco gli ultimi istanti a terra del volo MH17 a pubblicare su internet il breve filmato. Il giovane malese Salim, anche egli tra le vittime della tragedia, mi sento un po' nervoso, scrive il trentenne nella didascalia del filmato prima del decollo fatale. Storie dei passeggeri e delle loro vite stroncate. Salim tornava a casa dai suoi che lo aspettavano all'aeroporto di Kuala Lumpur. Tra loro, prima incredulità, poi sgomento e dolore. Nella sala d'attesa i display invitano i parenti a chiamare un numero. La notizia è una sola per tutti, i loro cari non ci sono più. Ma su come questa comunicazione sia stata data interviene Danica, vedova di uno dei passeggeri dell'altro volo Malaysia scomparso quattro mesi fa. Spero solo, dice Danica, che la compagnia abbia imparato la lezione e questa volta sia stata capace di essere vicina ai parenti. E poi l'incredibile vicenda di Itzi, la mamma ancora sconvolta, che stringe il suo piccolo di pochi mesi tra le braccia, entrambi scampati alla tragedia per un soffio. Ero in taxi col piccolino, correvamo verso l'aeroporto per prendere l'aereo, ma poi il bimbo ha avuto mal di pancia e abbiamo perso l'aereo. Sono convinta che qualcuno ci guardi dal cielo, così adesso abbiamo una seconda vita. Mike invece è salvo perché ha preso quello stesso volo, ma il giorno prima. L'aereo era pieno e volevano farlo viaggiare il giorno dopo. Lui ha insistito per partire e così è vivo. Lo Stuart Sandy non doveva salire sul volo abbattuto. Un suo collega invece gli ha chiesto un cambio turno e lui ha accettato andando incontro alla morte. E pensare che sua moglie, anche lei assistente di volo, proprio scambiando un turno con una collega, era scampata alla tragedia di marzo della Malaysia. Cor aveva fotografato l'aereo e scriveva, Se dovesse perdersi ecco com'era, invece quell'aereo è proprio esploso. Tra i rottami oggetti personali, addirittura peluche. Difficile anche solo immaginare gli ultimi istanti di quegli 80 bambini, tra cui molti neonati, che erano a bordo.